Cresce il numero dei donatori di sangue a Teramo e cresce anche il numero delle sacche raccolte nel 2023. Oltre 5.000 iscritti con donazioni costanti che confermano l'inversione di tendenza che negli ultimi anni aveva visto un calo sensibile. A certificare l'ottima situazione è la presidente della Fidas Teramo, Gabriella De Gidio. Stiamo tornando un pochino ai valori e ai numeri del 2012 che si aggiravano sui 6.000. In effetti poi quel dato è sceso e non siamo più riusciti a eguagliarlo. Speriamo che a fine del 2024 ci riusciamo, visto che a fine del 2023 eravamo sulle 5.800. Questo com'è stato possibile? Grazie anche ad un'attenta comunicazione? Grazie ad un'attenta comunicazione, informazione e soprattutto a un lavoro che quotidianamente i miei consiglieri volontari fanno sul territorio, in modo particolare nelle scuole perché nelle scuole i giovani sono quelli che saranno il ricambio generazionale. E i giovani si stanno avvicinando? Sì, sì, i giovani si stanno avvicinando. Poi c'è un momento che li perchiamo un po', forse magari quando vanno all'università così, però se hanno donato prima dell'università dopo tornano. Possiamo anche sottolineare il fatto che donare sangue è un gesto importante e soprattutto non fa male? È importante ovviamente per chi riceve perché ogni giorno serve il sangue agli ospedali, in modo particolare adesso con l'arrivo della bella stagione che ci sono più incidenti, eccetera. Fa bene a noi che doniamo perché siamo comunque sempre sotto controllo. È importantissimo.